Ciao a tutti, sono Luica e per la prossima mezz'ora faremo un bellissimo allenamento di glutei. Non vi servirà alcun tipo di attrezzo? Pronti, partenza, via! Iniziamo con tre respiri, un po' di corpo libero per scaldare tutto il corpo e poi si parte. Quattro, tre, due, corcetta sul posto! Mi raccomando, non sbattere i piedi a terra, ammortizza sempre bene, mi raccomando. Quattro, tre, due, jack, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, calciata, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, scatta otto tempi, quattro, tre, due, uno. Rivalichiamo le gambe, spunti leggermente verso l'esterno, a lungo di squat. Salgo e stretto il gluteo, quindi spiro e spiro. Attenzione a non portare in centro le ginocchia, lento e controllato il movimento. Ancora. Quattro, tre, due, scendi più lento. Quattro, tre, due, sali in quattro, quattro, tre, due, tricciagli luceo. Quattro, tre, due, sali in quattro, quattro, tre, due, gli ultimi. Quattro, tre, due, sali, attiva, controlla, sali e stretta. Scendi, 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 scendi. Quattro, tre, due, forza, toglia da capo. Sono quattro, tre, due, getto, dietro. Quattro, tre, due, calciata. Quattro, tre, scatta, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, di basca. Pronti per lo squat? Mi raccomando, gluteo di stretta e stretta. Forza, andiamo, due, scendi, dale, scendi, dale, scendi. Senti, sali, scendi, scendi in quattro, quattro, tre, due, sali in quattro, più lento, più lento, quattro, tre, due, sali in quattro, vai ancora, quattro, tre, due, sali in quattro. Quattro, tre, scendi, scendi in quattro, vai ancora, vienilo, ancora, quattro, tre, due, sali in quattro. andiamo andiamo singolo 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 piede cerca di attivare il gluteo bacino stabile via destro 4 3 2 via finito forza il giro più verso l'addome 4 3 affordo avanti vai qua quindi torna affonda mi raccomando negli affondi le due ginocchia fanno 90 gradi ancora 8 7 6 5 4 3 3 2 3 2 andiamo 8 7 6 5 4 3 2 5 6 6 6 6 6 7 8 7 8 8 8 9 10 6 8 8 9 10 10 11 12 13 13 12 14 15 15 15 15 16 16 16 18 18 19 19 20 20 21 22 23 23 23 24 25 25 25 25 25 25 26 26 27 25 27 25 32 28 27 28 29 30 30 30 30 30 30 Scende, sale, sali, rimani, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 3, vai, bolleggia, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, modalità un po' più difficile, sali, scendi, sali, portiamo tutto il nostro carico su un gluteo somo, cerca di non sbattonare, sale, scende, sale, modalità numero 2, un pochettino più difficile, sali, mani, tienilo qua, massima contrazione muscolare, non voglio mettere il sedeno basso, molto alto, 4, 3, 2, molleggia, piccolo, dai, 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 un pochettino, 4, 3, 2, cambia, vai lato, sale, scende, 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 3, 4, 3, 2, piccoli molleggi di atto, respira sempre lento e controllato, senza strattori, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, e poi la scende, 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 sc Tieni l'olio, otto, sette, sei, cinque, ancora, quattro, tre, due, dieci, ottimo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, cammina, scende, sale, scende, sale, scende, controllo, massimo controllo, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, stai, otto, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, sciogli, porta le ginocchia al testo, e, 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 quattro, tre, due, uno, ci giriamo, quadrupedia, gomiti in appoggio, partiamo con la gamba retta, fingitela, cerca di non muovere il bacino, di non incassarti nelle spalle, tienile sempre lontane dalle orecchie, quattro, tre, due, trotta, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, porta qua, apri il laterale, continua, cerca di non muovere il bacino, quattro, tre, da, capo, otto, sette, sei, e, stessa in linea, quattro, tre, due, incrocia, un becchio, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, tre, alla, accorgiamo, apri, attenzione a non ruotare il bacino, quattro, tre, cambia, sinistra, sinistra, tesa, due volte, non lanciarla, controlla e strizza il gluteo, tre, due, incrocia, otto, sette, sei, cinque, otto, e stelle, quattro, tre, due, uno, apri, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, da capo, andiamo, andiamo, tesa, quattro, tre, due, alterna, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, e, lato, otto, 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 sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, allunga, gluteo sul tallone, senza la polsa a terra, e poi si riparte sotto da capo, otto, otto, sette, sei, man mano attacchiamo qualcosa, quattro, in fronte, da capo, sali due, scendi due, sano, sale, bene, up, scendi giù, sale, rimani, rimani, otto, sette, sei, cinque, ancora, quattro, tre, subito, due, uno, molleggia, piccole, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, gamba su, andiamo, singolo, massima, massima contrazione del gluteo singolo, non avere fretta a salire, non avere fretta a scendere, rimani su, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, molleggia, piccoli, uno, uno, dai su, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, molleggia, gamba, gamba, sale, massimo controllo, quattro, tre, rimani su, otto, sette, verso il pochetto, piede a macello, quattro, tre, due, gamba, sale, un, gamba, 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 saltima, gamba, sl precisamente, gamba, costantino, che sono sacerdale, torna l'alto, posto, chiamate, come è una buong'ultima, delle attaccia, di caso, attaccando scendere, smanку, piccoli, e, da quando, le spiaggiano, disorta, playlist, si può trasc Wass 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 sconti l'appoggio ritrovi la maletta il tallone spinge verso il suffisto 3, 2, 1 8, 6, 7, 5, 4, 3 porta lato 8, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2 cambia lato cerca di non muovere il bacino ricordalo 4, 3, 2, incrocia 4, dai insieme a me 3, 2, porta lato dai 8, 8, 6, 7, 8, 5, 4, 3, 2 ti porti sul banco il braccio che sta sotto sotto la testa la gamba succe leggermente pressa quella sopra pesa piede a martello sali peso 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 qua ne abbiamo un po' voglio sentire l'esterno coscia che esplode molleggio matto piccolo mi raccomando non voglio dei molleggi veloci li voglio lenti e controllati devi sentire tutta la cadenza vedi? eh? eccellente 4, 8, 3, 2 il prossimo fa male andiamo lungo avanti dai 1 2 3 2 1 loca fai qua gamba completamente tesa 4 3 2 lo facciamo un secondo giro sali 2 sali scendi sali scendi sali scendi sali molleggia qua diamo 8 7 6 5 tutto il resto del corpo è immobile attiva l'addome 4 3 porta avanti sale fronte sale scende sale fronte sale scende sale fronte sale scende sale fronte sale stai qua 8 6 6 5 4 3 2 abbiamo ancora lavorato iniziamo con lo slancio mi raccomando la gamba a poco leggermente flessa la testa la testa in appoggio sul braccio sulla mano sali 2 scende 2 sale scende sale sale cerca di contrarre più che puoi in salita andiamo ancora 8 7 6 5 5 4 3 2 piccoli molleggi 8 7 6 4 3 2 avanti sale 4 3 2 avanti sale non avere fretta quando vai avanti arrivi a 2 cm dal pavimento 3 tutto il resto del corpo immobile 4 3 2 blocca qua 8 2 7 6 5 ancora 4 3 2 molleggia 8 6 5 6 6 6 8 8 8 9 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 13 14 13 15 15 15 15 16 18 19 21 21 22 1 sciogli portiamo di nuovo il gluteo sul tallone allungo ancora 8 7 6 5 4 ci riparte da capo 3 2 scende infiora scendo non appoggio sali in mani fissa 4 3 2 piccoli molleggi fai qua sempre la tensione muscolare sul gluteo non lo lasciare 4 3 2 parte 2 sale scende carico sempre su tutta la pianta di piede 8 8 7 6 5 4 3 2 6 molleggia 8 7 6 5 4 3 5 6 6 6 6 6 7 7 8 prepara il terzo livello gamba gamba tesa sale scende sale tutto sempre sotto controllo 8 2 3 7 4 3 2 blocca tienilo andiamo 4 3 2 scanda scende non avere fretta non strassonare 4 3 2 blocca 8 5 4 3 2 gira dai che sono le ultime ripetizioni e un po' più veloce salitezza 8 7 3 5 4 3 2 ingrocca dietro 8 7 6 5 4 3 2 1 dai qua 2 2 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 4 3 2 3 2 3 3 4 3 4 4 5 5 6 6 6 6 6 6 7 6 6 7 4 3 4 1 avanti 8 7 6 5 4 3 2 blocca 4 3 2 2 2 1 2 2 2 2 2 2 3 2 3 2 3 3 3 2 2 3 4 3 6 5 4 3 2 5 6 5 6 6 6 6 7 6 7 6 7 7 7 8 8 8 8 8 8 9 8 9 11 11 12 12 12 12 13